Voglio iniziare a premiare la categoria Barboni e Ferrazzi, per cui parliamo dal quinto classificato Paola Battaglia, che non è presente perché mi vedono nessuno muoversi davanti a me. Il quarto classificato Laura Vioni, è presente, sì? Sì. Grazie mille. Grazie mille. Il terzo classificato Stefano Paderno, per il quale forse è arrivato a questo qua. Sul fine by night, prego prego, dice il buono sconto da 200 euro, il terzo classificato. Il secondo classificato, un corossetti. Complimenti, vince il buono sconto da 300 euro. Il primo classificato, Gian Maria Delaglini, complimenti per l'attenzione di voto. Passiamo alla categoria Giardini. Quinto classificato, Katia Pozzi con il suo Giardino d'Acqua. Complimenti per l'attenzione di voto. Complimenti, ha detto una buona metà nuova e la vita a casa facile. Allora, per il quale forse è arrivato a questo qua. Complimenti, buono sconto da 200 euro. Passiamo ora al secondo classificato, Laura Ceranzo. Complimenti, buono sconto da 300 euro. Complimenti ancora. Facciamo il primo classificato, Giuseppe Apodei, avvolgente e paganza. Complimenti, buono sconto da 300 euro. Passiamo ora alla categoria negozi. Secondo classificato, parlo di secondo perché gli ultimi tre classificati presenti non sono stati assegnati i premi. Bazzurini, SRL. Secondo premio, 300 euro, non sono stati assegnati i 5 euro. Prima classificato, siamo molto orgogliosi di dare il premio ad un asilo nido, Mondo Giocondo. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.